Pulisic e Giroud regalano il primo posto a Pioli. Ecco le analisi e le pagelle di Genoa a Milan 0 a 1. Sicuramente non è stata una delle migliori partite stagionali per il Milan, ma quello che contava erano i tre punti che sono infatti poi arrivati per portarsi al primo posto in classifica in solitaria alla prima dalla sosta per le nazionali. Un Milan che si presenta con il tridente inedito Suquese, Jovic o Cafor, con il centrocampo formato da Adli, Renders e Musa, Florenzi e Teo sugli esterni, Contomori e Ciao centrali e vabbè ovviamente Mignan in porta. Il primo tempo vede un Milan troppo statico che non riesce a creare le sue solite azioni anche e soprattutto grazie al lavoro difensivo della squadra di Girardino. Inizia la ripresa e Mr Pioli mette dentro Rafa Leao e Christian Pulisic al posto di Okafor e Suquese. I rossoneri ci provano ma la miglior palla goal capita ovviamente al Genoa. Tiro di Dragostin che trova la deviazione di Renders, strepitoso Mignan che riesce a distendersi e tocca leggermente la palla per metterla in angolo. Al minuto 88 arriva la svolta, cross di Musa dalla destra, stop di Pulisic, di petto, di petto dai ragazzi, e Girata che col mancino batte Martínez. Rossoneri avanti. I minuti di recupero vedono il panico sul lancio lungo di Mignan che esce fuori dall'aria per anticipare di testa l'attaccante ma col ginocchio troppo alto. Dopo un consulto al VAR il portiere francese viene espulso. In porta con il Milan che ha terminato i cambi e ci finisce incredibile Olivier Giroud, punizione per il Milan che è sfortunato. E la conclusione deviata si stampa sulla traversa. Al minuto 102 arriva un'altra espulsione, questa volta del portiere del Genoa, che stende Musa in ripartenza. Pochi istanti più tardi un miracolo di Giroud che con un'uscita pazzesca salva i rossoneri. Andiamo a vedere le pagelle di questa gara. Partiamo da Mignan, 5 e mezzo nel primo tempo, normale amministrazione. Nella ripresa, ok, salva il risultato ma poi viene espulso nel finale. Partita diligente per il jolly difensivo, stiamo parlando di Florenzi che ha preso 6. Prova a farsi vedere anche davanti. 6 anche per Calabria che entra bene e prova a offrire il suo contributo anche in fase offensiva. 6 anche per Ciaule, prova tutte per cercare di contenere Gudonsons pressandolo a tutto campo. 6 e mezzo per Tumori, prestazione di livello per il difensore inglese che non sbaglia nulla, tra l'altro è anche decisivo nel finale con la respinta sulla punizione. 5 e mezzo per Teo Hernandez. Già perché Teo Hernandez, sapendo che era diffidato e poi abbiamo la Juve. Ma poi, partita non sufficiente, si vede praticamente solo per il giallo che appunto gli farà saltare la gara contro i torinesi. 7 per Musa, prestazione maiuscola per il centrocampista americano, autore anche dell'assist decisivo per il gol di Pulisic. 5 e mezzo per Adli, in calo rispetto le scorse volte, prova a rischiare la giocata soprattutto nella ripresa, però è poco preciso. Giroud, 9, non possiamo dire nient'altro. A 37 anni si sacrifica addirittura andando in porta e riuscendo anche tra l'altro a parare. Vabbè ragazzi, Giroud. Reinders, 6 e mezzo, solita partita di classe e sostanza per il centrocampista olandese, sempre pronto a farsi dare palla dai compagni. Ciucuese, 6, in crescita rispetto alle precedenti partite, ma serve più concretezza negli ultimi metri per essere decisivo. 7 invece per Pulisic, che entra e decide la partita siglando il suo quarto gol in questo campionato. Arriva poi un 5 per Okafor, spreca un assist di Ciucuese, il peggiore dei rossoneri nella trasferta di Genoa. Speriamo che si rifaccia. 6 invece per Leao, pericoloso con un colpo di testa, prova anche qualche discesa, ma se viene sempre raddoppiato. 6 per Jovic, scelta sorpresa del mister per questa sfida, nel primo tempo non si vede mai con l'ingresso di Giroud, si nota di più. Bella girata sul cross di Calabria. 6 anche per Pioli, i cambi che fa gli regalano il primo posto in classifica. Mister, ora però bisogna lavorare per crescere ancora di più. Noi vi ricordiamo di seguire ovviamente a Ciminal Insight su tutti i suoi canali social, YouTube, Twitch, ovviamente il nostro sito, il nostro profilo Twitter e Instagram. Alla prossima partita, ciao a tutti! Grazie a tutti!